Alleggerire la pressione fiscale sulle attività produttive e sui nuclei familiari e a cominciare dalla tassa sui rifiuti. A lanciare l'appello alle istituzioni canicattinesi è il presidente della CNA di Canicattì, Giuseppe Scibetta, alla vigilia della seduta del Consiglio Comunale, chiamato a rivisitare le tariffe nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario dell'ente. Ci affidiamo alla sensibilità politica di chi ha la responsabilità di amministrare il territorio, aggiunge Scibetta. Chi produce, lavora e genera occupazione non può essere costantemente preso di mira e tartassato da tributi e balzelli. Gli artigiani, ma più in generale gli operatori economici, rappresentano il cuore pulsante del tessuto economico. Guai a non farlo battere più sarebbe un danno irrimediabile. E allora, osserva ancora Scibetta, sindaco, giunte e consiglieri comunali, a prescindere dall'appartenenza, facciano fronte comune per favorire un condiviso percorso complessivo di rilancio delle imprese, partendo proprio da un ritocco a ribasso delle aliquote deltari, il cui intervento possa coinvolgere positivamente anche le famiglie. Ci sono poi gli immobili sfitti, sui quali va avviato un proficuo ragionamento, finalizzato all'individuazione di adeguate soluzioni in termini di agevolazione e riduzione della tassa. La CNA di Canichetti, conclude Scibetta, offre la propria disponibilità ad un confronto franco e costruttivo per poter istituire un tavolo tecnico attorno al quale affrontare tutte le tematiche che riguardano la nostra categoria. Sulla prima bocciatura del piano finanziario della Tari, da parte del Consiglio Comunale, interviene anche Francesco Piccarella della Confcommercio. A Piccarella replica il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Tedesco, contrariamente a quanto affermato dal Presidente Piccarella, dice non è in discussione il regolamento Tari, si sottolinea come ogni decisione assunta dai consiglieri comunali è appannaggio del loro libero convincimento, matura sulla base di precise elementi documentari e amministrativi ed è sempre determinata dalla volontà di perseguire il bene e il progresso della comunità. in tutte le sue articolazioni.